con Stefano Dottorello iniziamo il primo concetto del 2022 e il secondo da quando abbiamo detto il Symmetria Institute Stefano è un caro amico un polistrumentista specializzato nel giuto per il quale ha conseguito una serie di provi e di attestati che non finiscono più che non mi sto a dire e li potete trovare tranquillamente nel suo curriculum ha insegnato e attualmente insegna ancora questo strumento presso il Conservatorio Santa Cecilia a Roma e vedrete soprattutto attraverso la sua sensibilità e la presentazione di musiche appartenenti al 1600 e quindi a partire da Vincenzo Berilei e a tanti altri autori straordinari che hanno una musica sotto un certo aspetto modernissima e sotto un altro aspetto antica e affascinante che è quella che ci piace di più e che caratterizza oltretutto quello che è lo spirito di Symmetria stesso Stefano ci intratterrà con numerosi brani e lo ascoltiamo come sempre con attenzione e con quel spirito di conservazione delle cose belle che caratterizza il nostro scopo e la nostra missione Molta scopo e la sua missione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.